Musica Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo ritornati su Hellblade Eravamo rimasti qua Che in pratica non ci facevano accedere a questa porta Difatti come potete vedere la porta è chiusa C'è verso di accedervi Quindi ciò che dovremmo fare in questo momento Allora sarebbe accedere a queste due porte Da qui mi sa che ci sono venute E qua c'è un muretto con una lettera Andiamo in quella rossa Cioè penso si possa accedere a queste porte E si può accedere a queste porte E si può accedere a queste porte Ok Ok Allora Corriamo un po' raga perché se no Oh però non la gara Corriamo un po' dicevo perché se no qua raga ci si sta Un'eternità Trovo un altro modo per trovare la verità Ok Ok Va bene Ah ma si è aperta la porta Allora Vediamo un po' Allora saliamo Che ci siamo Dato che ci sono Il gioco ci fornisce la scala Saliamo su questa scala Andiamo Su Cos'è sto schifo Guarda là altri Ma so quelli là che ho provato a battere prima Cioè nello scorso episodio E qua no E' Thor ragazzi C'è un'altra porta No dai un'altra Non mi ricordo nemmeno più come si fa Buono Ma yalla Porca Porca Attacco sempre così perché Cioè ci vado incontro Quando me la sento Cazzo No 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 Ma basta Mori 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 Cazzo Cazzo Non ho schivato Basta ora Però raga i combattimenti devo dire che sono fantastici Devo trovare lo stesso segno Devo stare attento ai particolari che ci sono qua Che? Raga mi si è aperto a casa il muro Ma non è vivo Ok un pochino mi sta bloccando sta cosa Forse perché ho guardato da dietro E l'uomo Cioè la maschera di Cosa? Allora no dai ce ne sono altri Devo salire lì sopra ora Però ho capito adesso qual è più o meno il gioco Perché Io con lui Faccio così Ah no ma Devo andare prima forse alla porta Madonna raga Complicato qua Ok allora ragazzi Io adesso Prendo Faccio Guardo questo Ecco Cioè mi si è sbloccato come se niente fosse Cioè se Guardo questo Ecco ч'e CoPL Ho Io iscriviti al canale corruggery come si è un poverso ot 잠mi come se bellissima coraggio a lei e dopo Saleira non deve洗uto Sige e non! non! Ah 3 5 Bene, adesso posso tornare indietro Complicato o serio, raga, questo gioco? Cioè nel senso, un po' complicato intendo nel fare le cose Io che ne sapevo e dovevo guardare a quello scemo Quella testa lì appesa, che a parte lì non c'è Ok, teoricamente quello che abbiamo visto prima Cioè quell'uomo, uomo, quel demone Se così si può nominare, che abbiamo visto prima Mi sa che sarà colui che va affrontato Noi raga, ci proviamo Qua ci sono le scade Apriamo la porta Ok Andiamo in giù Andiamo subito ad aprire la porta Anche se lei comunque potrebbe correre anche più veloce Però non ce la fa Cioè Questa è la sua velocità Purtroppo Vabbè ragazzi Direi che questo video può terminare qua Io spero tanto che vi sia piaciuto Nello stesso giorno farò un'altra registrazione Dove continuerò ancora un po' la storia Cioè adesso E quindi poi ve l'ho riposto per un altro giorno Vi lascio qua col fietto sospeso E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao Musica